I carabinieri della stazione di Santa Ninfa hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e contestuale di vieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Tribunale di Sciacca nei confronti di un trentenne del posto gravato da pregiudizi di polizia per il reato di maltrattamenti contro familiari conviventi. Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative dei carabinieri di Santa Ninfa pienamente condivise dall'autorità giudiziaria che hanno documentato i reiterati maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. In particolare, nell'ultimo grave episodio, avvenuto pochi giorni addietro, a seguito di una lite per futili motivi, il trentenne avrebbe preso abiti e vestiti della donna e gli avrebbe dato fuoco.